E allora ci colleghiamo subito con la sala stampa del Festival di Sanremo dove c'è per noi il nostro inviato molto speciale, anzi oggi gli inviati sono due. Vediamo, oh e finalmente lo vediamo, Giacomo Caporusso, speaker di Radio Gamma. Ciao Giacomo, bentrovato. Buongiorno. Ciao Paola, finalmente ci vediamo e ci sentiamo come se fossimo vicini vicini. La connessione della sala stampa è buona. E vabbè, mamma Rai che paga per cui. E allora, buongiorno, prestiamo a vivere quella che oggi potrebbe essere la serata più lunga perché abbiamo i duetti. Ma di questo ne parliamo dopo perché intanto ieri è continuata la polemica con... facciamo anche noi? Vabbè, lo invitano e poi se ne prendono le responsabilità. Detto questo, com'è stata la serata di ieri? Beh, almeno un po' più frizzante perché Teresa Mannino, diciamo che ha dato quel brio in più, per cui anche il monologo che ha fatto mi è piaciuto, per cui ha parlato degli uomini umani e degli uomini animali facendo l'esempio della formica. Secondo me è stato molto bello, forse qualche maschietto si sarà pure lamentato, però Paola, secondo me quella è la verità, che ne pensi? Allora, guarda, Teresa Mannino è stata davvero una grande showwoman, ecco, sul palco di Sanremo. Poi naturalmente c'è sempre questione di gusti, a chi piace, a chi non piace, chi ha apprezzato, chi non ha apprezzato. Nei giorni del Festival di Sanremo tutti diventiamo esperti di musica, di spettacolo e di testi autorali. Quindi comunque lascio, come dire, al gusto di chi l'ha visto i vari commenti. A me lei piace molto per il suo modo frizzante che ha avuto appunto di tenere in mano questa serata non facile di Sanremo. Prendo spunto da quello che hai detto perché la settimana prima del Festival di Sanremo eravamo tutti esperti di tennis, per cui questa cosa è tipica nostra italiana. Ma passiamo alle classifiche. Ecco. Ma passiamo alle classifiche. Voglio fare una premessa. Si nasconde tantissima roba quest'anno al Festival di Sanremo. Sembra quasi un monopolio, no? Per cui nelle tre serate appena trascorse noi sappiamo solo i primi cinque. C'è un silenzio assoluto su come saranno gestite poi le altre classifiche. Però un dato è fondamentale. Quest'anno, rispetto allo scorso anno dove Mengoni ha vinto già prima dell'inizio del Festival, quest'anno sarà Bagarre perché in tre serate tre classifiche diverse e mi riferisco solo al primo posto. Prima Loretana Bertè, prima Angelina Mango, prima Jolière. Per cui sabato sarà davvero difficile. Certo, quando c'è una competizione e quando il risultato è in bilico fino alla fine sappiamo benissimo che gli ascolti aumentano. Perché aumenta la curiosità, aumentano le scommesse. Ad esempio, chiedimi chi vincerà il Festival di Sanremo. Chi vincerà il Festival di Sanremo, Giacomo? In tre giorni, ascoltando tre volte le stesse canzoni, ben tre volte, per me Loretana Bertè ha vinto dopo le prove. Loretana Bertè ha vinto, per cui convintissimo. Secondo giorno, Angelina Mango spacca. E invece adesso ci troviamo che, buh, non si sa, non si sa e non si saprà fino alla fine. Voglio aprire però un piccolo appunto su Eros Ramazzotti. Ecco, sì, te lo stavo chiedendo. Eh, esatto, perché, in primis una curiosità, si vede che sono boomer, no? Sì, è l'età che lo dice, è la carta d'identità. Dunque, non può sbagliare. Per cui, in galleria, forse non tutti ci hanno fatto caso, ma in galleria, mentre cantava Eros Ramazzotti, Terra Promessa, cioè i 40 anni di Eros, che è partito dal Festival di Sanremo, uno striscione con un gruppo di ragazzotti, e su c'era scritto, i ragazzi di oggi, di 40 anni fa, siamo noi. Per cui mi ha creato un'emozione, perché io ricordo benissimo, eh, non c'erano computer, non c'erano connessioni, per cui la Terra Promessa era già arrivare al di fuori della regione, mentre adesso noi possiamo tranquillamente pensare di andare sulla Luna, boh, o andare dall'altra parte del mondo. Questa è stata una cosa che mi ha colpito a me, da boomer. Ma la cosa più bella, e devo ammettere, è stato il messaggio che Ramazzotti ha voluto lanciare. Bellissimo, per cui mi ha commosso molto, e dico, è da apprezzare. Vuoi chiedermi qualcosa? No, a proposito di Eros Ramazzotti, ti è piaciuta la sua performance, ti aspettavi di più? Perché io magari mi aspettavo anche che cantasse qualche brano in più, magari sarebbe stato bello un bel medle, infatti mi sono accomodata con la speranza che cantasse anche qualcos'altro. Ok, questo era il desiderio dei tanti amanti di Eros Ramazzotti, ma contrapposto a questo c'era anche il desiderio di molte più persone, per cui il festival lo facciamo terminare non molto tardi. Eh certo. Immagina costruire la scaletta con tanti ospiti, ieri ce ne sono stati davvero tanti, gestire peraltro anche artisti 15, che poi in realtà sono sempre 30, perché il cantante diventa presentatore, il presentatore poi diventa cantante. Abbiamo visto il siparietto di Fiorello, per cui, niente, no, non c'era possibilità, e secondo me sarebbe stato molto bello, però il direttore capo ha deciso così. Ma parliamo della serata di oggi. Oggi sarà sicuramente il momento top, come ascolti e anche come gradimento, prima della finalissima. Sì, perché ci sono davvero tanti artisti, per cui io non me li ricordo, devo chiedere aiuto al Gobbo, se ti dico la mia, non vedo l'ora di guardare il volo in compagnia di Steph Barn, il chitarrista di Vasco Rossi, per cui canteranno e suoneranno una canzone dei Queen, quella è da vedere assolutamente e sarà la parte più bella. Come l'anno scorso, per esempio, è accaduto con Mengoni e il Gospel. È stata da brivido. Per il resto, sì, Tiziano Ferro, ci si aspetta qualcosa anche da Gigi D'Alessio per un Midlay tutto napoletano. Riccardo Cocciante e Irama, secondo me, sarà molto interessante, perché Irama ieri in conferenza stampa ha proprio definito il suo aspetto più, come devo dire, musicale, per cui lui durante la sua carriera ha bazzicato più generi e con questa apparizione al Festival di Sanremo ha voluto entrare un po' nel mondo del cantautore, per cui Riccardo Cocciante sarà bello come duetto. e poi io sono curioso di vedere la copiata Donatella Rettore, la SED, ormai è questo il loro nome, non si capisce più se è la SED, la SED. Non lo sappiamo, ma la canzone Dammi una lametta che mi taglio le vene questa sera farà sicuramente tanto scalpore. Senti, e come la vedi Angelina Mango che canta la rondine del papà? E vabbè, quello sarà il momento più toccante, anche se ieri Enzo, Enzino, che tra un po' ve lo faccio vedere, gli ha fatto giustamente la domanda chiedendogli perché la rondine è non, ad esempio, Bella d'estate, che secondo me è la canzone che più ha caratterizzato Mango, e Angelina ha detto perché ci sarà il gioco di violini che renderà questa esibizione davvero straordinaria. Vedo, Enzino, che sto facendo così, forse dobbiamo andare a fare la colazione. E allora vieni, perché... Chi vince il Festival di Sanremo, secondo te, Giacomo? Chi dillelo a Enzo? Ecco qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Il nostro direttore artistico di Radiogama, giovanissimo ma con tanta esperienza. Allora, domanda non difficile perché sappiamo noi il nuovo metodo di votazione grazie al Televoto possono cambiare tantissime cose perché qui all'interno della sala stampa ci sono molti giornalisti che apprezzano la canzone di Bertè, però grazie al Televoto magari una tra Annalisa e Angelina Mango potrebbe vincere, anche se io vedrei molto meglio l'Angelina come vincitrice del Festival. Infatti, anche perché in previsione Eurovision è giovane, dinamica, simpatica. Io firmerei per Angelina. Vedremo, dai. E allora, Enzino, ci vuoi raccontare se tutti gli amici dall'Italia, dal nord al sud, vorrebbero ascoltarci in questi due ultimi giorni cosa devono fare? Basta scaricare la nostra app oppure su un pc qualsiasi, radio-gamma.it, seguite i nostri appuntamenti ben sei durante la giornata, alle 9.20, 11.20, 13.20, 15.20, 17.20 e 19.20. Ovviamente poi il consiglio è quello di seguire anche le nostre pagine social, quelle di Radiogamma Puglia. e sorrido perché abbiamo delle chicche per cui andatele a guardare. E' bello. Oggi è stato più tranquillo, eh Paola? Che ne pensi? Biscio come l'olio. Facciamo vedere la sala stampa e intanto ci salutiamo, ci risentiamo, anzi, ci rivediamo domani. Eccola qua, sala stampa che tra un po' si riempirà e arriveranno davvero tanti. E questo è il wall, per cui arriveranno tanti ospiti, tra cui, vuoi ricordarne qualcuno Enzo? Sono previste conferenze stampa, tra cui il volo. Vedremo se quest'oggi verranno a trovarci, visto il rinvio di ieri. E magari se ci porta il chitarrista di Vasco Rossi. Ok Paola! Grazie ragazzi, buon lavoro! Buon collega! Grazie, grazie a voi! Ciao! A domani! Grazie, grazie Giacomo Edensino di Radio Gamma, grazie per essere stati con noi. Domani dovremmo ritrovarli all'interno dello spazio Just Today, perché ci sarà alla conduzione. Tony Augello.